Torno a Loretta Prutino i mercatini di Natale, seconda edizione, si comincia sabato mattina, che cosa si potrà visitare? Come ben dicevi si tratta della seconda edizione di Magie di Natale 2, riproporremo come l'anno scorso i mercatini di Natale con ben quasi, mi sembra 30 se non più, artigiani e commercianti che propongono le loro creazioni. Ci saranno tanti tanti piccoli eventi, soprattutto riguarderanno i bambini e quindi faremo divertire un po' tutte le famiglie. Ci sarà assolto Babbo Natale che raccoglierà le richieste appunto di questi bambini. Voglio ricordare la tragedia di Rigopiano, questi quattro meravigliosi amici che ce li abbiamo sempre nel cuore. Spero che non accadano più queste cose. Lo scopo è questo, cioè riunire le famiglie in piazza e quindi scambiarci gli auguri che sia un santo Natale veramente, che porti allegria, serenità in tutte le famiglie e soprattutto i bambini perché il Natale è anche la festa, soprattutto la festa dei bambini. Ringrazio tutti i collaboratori che mi permettono appunto di poter realizzare anche quest'anno questo evento.